Assessore, da mesi ci stiamo occupando come Bari.ilquotidianoitaliano.it delle incongruenze che un po' alimentano il 118 in Puglia. Ce ne sono tantissime, una di queste è la gestione delle chiamate. C'è una incongruenza legata al fatto che il 118 è un servizio di ASL, di azienda sanitaria locale, e c'ha la centralina, a meno per quanto riguarda Bari, penso Fogge, non vorrei essere impreciso, la centralina di funzionamento di dirigenza, che invece è di competenza del Policlinico di Bari, che è un'altra azienda. È come se lei lavora per il quotidiano e poi c'è qualcun altro che lavora, non so, per il giornale Pinco Pallino, che decide lei dove deve andare a fare i servizi. Questa cosa credo che sia inadeguata. Qualcuno dice che ci sono delle leggi nazionali, ma da un punto di vista di servizio alle persone, una gestione bipartisan è quantomeno incongrua, da un punto di vista di quello che può essere poi un disservizio che può sfociare. Per cui credo che su questo l'assessorato regionale della sanità e i tavoli sindacali e anche dei settori specifici che vanno dall'ausiliario all'infermiere al medico debbano rivedere in maniera molto forte questa questione, perché credo che sia veramente inadeguata come processo di gestione di un servizio sanitario di emergenza come quello del 118.